Un messaggio che vorresti mandare a tutte le donne? Il mio messaggio è amati, coccolati e valorizzati. Tesori miei, amatevi, volete mettervi qualcosa di colorato, di roba, non fatelo, alla gente mi deve fregare un cavolo, non mi deve fregare un cavolo di quello che pensa la gente, voi se vi sentite belle, volete mettervi qualcosa di bello, fatelo, non dovete ascoltare gli altri, altrimenti mettete la notte. Che siamo una parte importante della società e quindi tiriamo fuori le palle e facciamo vedere chi siamo. Giusto. Allora donne, amatevi, accettatevi, amatevi, perché parte tutto dall'amore per voi stesse, quando voi vi vedrete belle, vi amerete e la vostra vita cambierà. Di amarsi sempre, perché la bellezza non ha taglia, soprattutto questo, è molto importante. Un bacione. Di crederci sempre, anche se gli altri non credono in te, tu credici sempre.